Per me Bondome è l'empatia. Atomedia è l'innovazione. Tacchini è passione e qualità. Tacchini per me è la qualità. Trisani è una bellezza naturale. Moi è una vita straordinaria. Bondome è il nostro mondo plastica. Paola Lenti è un modo di vivere. Ciccita P is just amazing. Per me il punto è... Love. Raskin è fresco. Infiniti per me è sfida. Korean is beautiful. Moroso è stimolo. Davide Gruppi è seduzione. C'è design e coerenza. Tone per me è family. Saba è sensualità. Arpa per me è familiarità. Mono è magic. No press flexibility. Ecolico è creatività italiana. Magniflex for sure is the best partner you can have in the bed. Trisalface è la sartoria delle superfici. Soundskins is taking technology into your living room. BNB is sunshine. As you can see. Bello. Ecolico è un giorno. Ecolico è un giorno. Di quando ci eri. Abbiamo un giorno. Ecolico è un giorno. Grazie a tutti